Dopo la manifestazione di ieri sera, eccomi dalla parte dei commercianti e mi medesimo con loro nel momento in cui stamattina hanno deciso di aprire. Immagino il loro cuore e il loro spirito, ma in sicurezza si può e si deve, si può uscire, si può comprare. Quindi non abbattetevi perché ce la possiamo fare. Mi ripropongo oggi come candidata a consigliere comunale, vi ricordo sono Antonella Occhipinti e vorrei farvi sapere le mie idee per quanto riguarda questa volta la piazza del popolo di Vittoria. Una piazza del popolo che al momento non è nostra, ma in compenso dobbiamo riappropriarci di questa piazza, proprio del popolo, è nostra, sentiamo la nostra. Io pongo molta fiducia su Salvo Salemi, sul candidato a sindaco di Vittorio Scoglitti, Salvo Salemi, perché ha dei bellissimi progetti proprio su questa piazza del popolo e sul teatro comunale. Diciamo che io mi associo a lui in quanto vorremmo iniziare a portare avanti la cura, l'abbellimento di questa piazza del popolo, in modo tale da essere molto più curata, non soltanto per i turisti e quindi l'attrazione della città di Vittoria per quelli che vengono da fuori, ma anche per noi cittadini, perché la dobbiamo vivere, la dobbiamo percorrere in sicurezza. Infatti Salvo Salemi vuole portare la zona ZTL, in modo tale che sia i bambini, che sia le famiglie, sia i giovani possano viverla di giorno, così come di sera, in serenità, in tranquillità, senza pericolo di macchine. Vorremmo una piazza del popolo curata, ma non soltanto. In sicurezza, dicevo, non tanto per le macchine che devono passare o meno e quindi dare spazio maggiore ai pedoni, ma quanto piuttosto con delle telecamere che possano garantire soprattutto ai giovani e sempre dalla parte delle donne, quindi soprattutto alle ragazze che vogliono uscire la sera, tanta ma tanta sicurezza. Le telecamere, naturalmente, devono essere in sinergia con la polizia, con i carabinieri, con le forze dell'ordine e quindi una città, naturalmente, bella da fare invidia. E a proposito di invidia, mi trovo dalla mia carissima amica Valeria Lecci, che come una commerciante mi ha ospitato. Sono felicissima di essere qui e di poter dare il mio piccolo contributo proprio per la nostra città di Vittoria. Dicevo a proposito della Piazza del Popolo, ma all'interno della Piazza del Popolo c'è anche il teatro comunale. Sappiamo che in questo momento è chiuso e sappiamo anche che il progetto di Salvo Salemi è quello di restaurarlo, ristrutturarlo e riaprirlo. Il teatro, fonte immensa e inesauribile di cultura, perché i vittoriesi, diciamocelo, abbiamo bisogno, necessitiamo di cultura. La cultura non è soltanto la letteratura, la poesia, non è soltanto lo spettacolo. La cultura significa il rispetto delle regole, significa il rispetto dei nostri ambienti, del decoro urbano. La cultura significa amare la nostra città, rispettarla. Quindi io proporrei anche, una volta riaperto il teatro, dei corsi, che possono essere diurni o serali, ma non soltanto per i bambini, anche per gli adulti, perché il teatro ha una funzione catartica, quella funzione che riesce a farti liberare da tutto quello che noi abbiamo dentro, per migliorarci, sia con i nostri pregi, sia con i nostri difetti. Sempre all'insegna di una città di vittoria, sempre più bella, bella da fare in vidia. Questa è la settimana che ci avviciniamo al 2 novembre, quindi la commemorazione dei defunti, un tema molto particolare, non soltanto per me, ma per tutti i cittadini. Di conseguenza, il cimitero è un luogo molto sacro per i nostri cari defunti. Ecco perché io vorrei proporre all'amministrazione comunale futura una sistemazione diversa proprio di questo luogo. Partiamo dalla piantumazione. Abbiamo delle essenze arboree che non sono adatte per il cimitero. E questo lo vediamo perché le loro radici hanno quasi sradicato la cementificazione. Quindi io riproporrei di rivedere non solo i viali, ma anche proprio tutto il colonnato dei cipressi, in modo tale da farli distanziati tra loro, magari attorno delle aiuole, in modo tale da fare in modo che la cementificazione rimanga tale e quale. E a proposito dei viali, spesso capita che mettono in condizioni pericolose, soprattutto le persone che frequentano il cimitero, non tanto per passeggiare, quanto per onorare le nostre famiglie dei defunti. E queste persone, diciamo, meno giovani, così dolcemente li vorrei chiamare, devono stare attenti quando camminano, proprio perché ci sono le radici di questi alberi che fuoriescono dal marciapiede. E sempre a proposito dei vialetti, proporrei anche delle panchine, dove ci si potrebbe anche sedere, o quando si è stanchi, o quando si vuole stare in un momento di raccoglimento, proprio perché è un luogo veramente personalmente a me caro. Le aree centrali sono destinate a colori quali, o per scelto o per mancanza di possibilità, hanno i loro loculi. Io proporrei all'amministrazione comunale futura di donare simbolicamente delle croci uguali per tutti. E quindi anche abbellire con del prato verde e delle aiuole proprio quest'area centrale. Io vorrei che questo cimitero fosse un cimitero decoroso, degno dei miei concittadini vittoriesi, molto di più di quello che è attualmente. Anche oggi vi propongo di votare me, Antonello Occhipinti, dal lato delle donne, perché sono una cittadina e sarò una cittadina vicina a voi, per una città migliore, per una vittoria bella da fare invidia.